Tanto per essere chiaro sulle cose che ha detto, puttana, pussi, ci sono offese razziste, tuo culo bianco, tanto per essere espliciti e far capire quello che è successo. Un giocatore e una squadra in un momento complicato, tocca partire per forza da Kevin Durant, insomma l'ennesima gaffe clamorosa, abbastanza vergognosa, di cui è stato protagonista stavolta via social, l'ennesimo incidente social in cui è inciampato KD. Stavolta particolarmente grave, non che in passato ci fosse andato piano, ma in questo caso ovviamente è scivolato su una buccia di banana abbastanza significativa. Ricapitoniamo quello che è successo, il comico Michael Ripoport ha pubblicato tra l'altro una cosa illegale, dei messaggi privati, direct messages, che Durant gli ha mandato. E' una conversazione privata, come una mail che viene mandata ovviamente tra una persona e un'altra, è un illecito teoricamente pubblicato, anzi è un illecito senza teoricamente, è un illecito punto pubblicarla. E' chiaro che la gravità delle cose che Durant ha postato, fatto sì che né lui né Inez abbiano potuto o avuto qualcosa da ridire. Durant si è scusato, ma tanto per essere chiaro sulle cose che ha detto, puttana, pussi, ci sono offese razziste, tuo culo bianco, tanto per essere insomma espliciti e far capire quello che è successo. Ci sono appuntamenti tipo ok con Rall per poi sposarti in faccia e dirti quello che penso o un pezzo di... ma tutta una serie di insulti e di intimidazioni anche rivolte poi a appunto vediamoci fisicamente. Ti presento il conto fondamentalmente, ma anche appunto tanti epitoti o tante frasi violente e a sfondo razziale, razzista. Chiaro che siamo aprile 2021, se non avete ancora capito che è Kevin Durant, probabilmente o vivete su Plutone, su Marte, oppure siete stati in lockdown da 10 anni probabilmente, non da sfortunatamente 14 mesi. La realtà è che Kevin Durant io ho avuto l'occasione di seguire da beat writer per i Gold Estate, quando giocavano i Gold Estate Warriors dalla California. Gli anni belli di Gloria dei Dubs, il personaggio è questo, il personaggio è questo, è sempre stato questo. La narrativa nei confronti di Kevin Durant è imbarazzante, vergognosa, schifosa, è una roba indegna che viene raccontata, una serie di bugie che da anni viene raccontata dipingendo questo ragazzo. Poi col copia e incolla queste cose arrivano anche in Italia, non sono negli Stati Uniti. Come insomma la sweet art, il ragazzo dal cuore buono che insomma dedica la mamma il giorno della vittoria dell'MVP. Ma in realtà la mamma è l'unica persona di cui Kevin Durant si fidi a oggi. E quello è il suo problema, nel senso che, tanto per capirci, Kevin Durant ha vissuto un'infanzia molto complicata, molto complicata. Un'infanzia che non auguri a nessuno. Maryland, quartiere difficilissimo, solo i suoi talenti atletici eccessistici, straordinari, unici, lo hanno preservato da una brutta fine. Non si è mai fidato di nessuno e tuttora non si fida di nessuno. Ed è facile fare la morale a un personaggio così, che è un brutto personaggio, secondo me, per come l'ho conosciuto. È facile farla perché, per fortuna mia, io non ho vissuto quel tipo di infanzia e gioventù. E quindi è chiaro che è stato più facile per me, come per il 99.9% delle persone che ascoltano Prat Attack, direi. E' chiaro che Durant ha delle scusanti perché quando, per sopravvivere in quel contesto da ragazzino, non ti puoi fidare di nessuno, sei solo contro tutti. E' morta tua, vita mea. E' chiaro che diventa una legge del più forte, una legge di sopravvivenza. E ha quelle cattive abitudini. Il problema è che se tanti altri giocatori NBA, tanti uomini, personaggi NBA, perché poi parliamo di personaggi della PlayStation, ma sono persone in carne ed ossa, hanno saputo emanciparsi, crescere, uscire da quell'ambiente non solo sostanzialmente, ma anche a tutto tondo. Cioè, LeBron Jameson è certo cresciuto in un ambiente facile. Io sono stato a Akron, sono stato a St. Vincent's and Mary's. Sicuramente è cresciuto in un ambiente difficile. Dame and Lillard, insomma, lo racconto come Chiamine di Oriente anche in 30 su 30 nel mio libro. Avendo vissuto lì, sono andato a parlare con il suo primo alleatore. A Oakland è una realtà difficilissima. Per Dame è stata una realtà molto difficile da ragazzino. Però sono personaggi che, in modo ben diverso tra l'altro, ma per fare due esempi, hanno saputo crescere e, come dire, prendere le distanze dal ghetto in cui sono cresciuto, cresciuti da quartieri difficilissimi, che non dovrebbero neanche esserci, che sono fotografia, purtroppo, delle sperequazioni sociali feroci degli Stati Uniti, insomma, dei chiaroscuri degli States, e che inevitabilmente segnano. Però c'è chi, insomma, poi ne è saputo uscire, o comunque è saputo appunto crescere, approfittando come, diciamo, passepartout, sfruttando il talento cestistico, e che è rimasto tale quale. E duramente è rimasto tale quale. Mi ricordo un'intervista, insomma, quando andai, la prima volta che l'ho intervistato, andai a Oklahoma City, era un suo rientro dopo un infortunio. Insomma, col coming home di Skyler Gray a tutto volume e tutta la scisa piccarina che lo inneggiava, lo chiamano Serpente per un motivo, avrebbe tradito ben presto, ma al di là di quello, l'ho intervistato a fine partita, mandai l'audio in gazzetta, e mi chiamarono e mi disse, sì, ma noi non capiamo niente, cioè, che l'indonente fa fatica con l'inglese, ragazzi. Cioè, gli sti ragazzi parla così, questo è lo slang, sì, ma non capiamo, mandaci i sottotitoli e gli mandai la traduzione italiana di quello che aveva detto, insomma, dopo un po' fai l'orecchio, inevitabilmente, no? Come gli slang americani sono più forti dei dialetti italiani, inevitabilmente. Ma, insomma, questi ragazzi siamo al limite a volte dell'analfabetismo, cioè, e Durant fa fatica addirittura con l'inglese a volte, cioè, questa è la verità. Ma più di tutto, fa impressione proprio, queste sue cattive abitudini mi fanno impressione. Io sono entrato nello spogliatoio di Oklahoma City, alla prima d'avversario di Durant, alla Oracle Arena, e, insomma, si percepiva quasi un odio. È una roba anche difficile da dire da cronista, no? Perché comunque c'è una solidarietà di classe tra i giocatori inevitabile e un grande giocatore, un talento speciale come quello di Kevin Durant, che comunque gode di una certa immunità iniziale, no? Certo, è uno scudo più grosso rispetto a giocatori certamente meno dotati. E, in assoluto, insomma, i giocatori tra loro, come tutte le categorie, tendono a difendersi l'uno con l'altro, a far fronte comune. Insomma, schiumavano invece, in quel caso, i suoi ex compagni di squadra traditi nella sostanza e nella forma e nei modi, schiumavano rabbia. Insomma, i rapporti con Westbrook si erano rovinati, certo non per colpa di Russ. Poi gli ho visto piantare casini di ogni genere da bitrider nello spogliatoio di Labs. Ragazzo che non si fida di nessuno, un solitario ragazzo che, ripeto, è anche generoso giudicarlo in maniera severa e feroce. Nonostante questo, cioè, la fattualità degli eventi, lo racconti per quello che è. È chiaro che ha una grossa attenuante per il background che lo contraddistingue e che l'ha segnato in maniera permanente. Però, ecco, da cronista non va raccontato per quello che non è. Per cui questi episodi, l'ultimo episodio, è semplicemente la punta dell'iceberg di un ragazzo che ha enormi problemi nei rapporti interpersonali. E la realtà, mi sarebbe piaciuto sapere se queste cose fosse, questo episodio fosse successo a una non stella, cosa sarebbe successo? Sarebbe probabilmente fuori all'NBA. Avete visto quello del successo a Miles Leonard di Miami dopo che, giocando a un videogioco, ha tirato fuori un insulto razzista nei confronti degli ebrei. Nel caso specifico, cosa assolutamente disdicevole. Quello che voglio dire è che la stella è sempre più tutelata rispetto al giocatore minore che Leonard si è trovato tagliato da due squadre, neanche da una squadra, subito dopo l'episodio. E Dorent muta i 50.000 euro e via andare. È pronto a rientrare. Tra l'altro, sarei stato curioso di vedere a parte inversa se fosse stato un giocatore bianco a offendere un giocatore nero, cosa sarebbe successo e se sarebbe stato sospeso dalla Lega o meno. Sono situazioni molto, molto antipatiche, molto, molto difficili anche da valutare. Certo che sono situazioni gravi e Dorent ne ha combinate tante anche a livello social negli anni. Una postilla su di lui. Corano è rientrato, fortunato. Voglio solo sottolineare questo. 19 partite giocate rispetto alle 51 dei Nez. 32 anni, era stato fermo un anno per la rottura del tendine di Achille. Quando è rientrato ha dimostrato di essere un giocatore ancora fantastico. Però, insomma, grosso punto interrogativo sulle sue condizioni, sulla sua tenuta durata fisica, atletica in prospettiva play-off. Perché si giocherà, insomma, fondamentalmente un giorno sì, un giorno no di continuo. Il giocatore che non ha minimamente il fondo, tra virgolette, sarà tutto da testare. Il secondo argomento del momento è la crisi dei Lakers. Qui in Tia West, ma, insomma, con la situazione senza Lebron e senza Anthony Davis si sta facendo sempre più complicata. Il record parla di tre vittorie e cinque sconfitte. La realtà è che contro le squadre forti i Lakers neanche sono competitivi. Nel derby con i Clippers sono stati letteralmente spazzati via, non ci hanno messo mano. Coach Vogel è riuscito a, come dire, a creare un'identità, un'anima difensiva ai Lakers che nella loro metà campo, anche senza Le Stelle, loro lo fanno. Il problema è che in attacco siamo letteralmente alle aste. Cioè, senza la foglia di Fico, Lebron e piano B Anthony Davis e anche senza Drummond, sfortunato, che, insomma, si è fatto male subito all'esordio, anche se non è nulla di grave. Insomma, senza quella foglia di Fico cadendo sono emerse le magagne, insomma, le mediocrità di Schroeder e di Kuzma che hanno dei limiti terrificanti per i tifosi dei Lakers. È chiaro che con Lebron sembrano bravi tutti. Sono diventati bravi anche Tristan Thompson, Schampert, Frey negli anni, Mario Schalmer, e chi volete voi. È chiaro che quando non c'è lui si vedono le carenze degli altri. Allora, non sapendo quando rientrerà Davis, che, insomma, dovrebbe essere un rientro vicino, però pare non immediato, o quantomeno, e il rientro di Lebron, invece, non pare neanche vicino, è chiaro che, insomma, i Lakers rischiano di scivolare, perché l'Ovest è super mega competitivo e si fa presto a cadere, a andare indietro. E allora, i Lakers rischiano, sono Gianquiddi, rischiano di arrivare sestimi o addirittura settimi, perché Portland e Dallas, che sono attualmente dietro, squadre che sono in netta crescita. Portland, perché ha ritrovato gli infortunati, Dallas si è anche rafforzata sul mercato, tra l'altro anche con il nostro medio. e ha ritrovato Thorzingis ovviamente da un po', e adesso a regime. E' chiaro che, con Lebron e Davis, al meglio, con la giunta di Drummond, è chiaro che i Lakers possono anche partire da qualunque posizione della griglia pre-off e andare a vincere il titolo. La priorità è portare i due migliori giocatori all'inizio della post-season nelle migliori delle condizioni. Punto. Con questa premessa, però, se arrivi settimo, quest'anno c'è il play-in. Cioè, ti giochi partita secca con l'ottava, poi se tu dovessi perdere, ti giochi i play-off in partita secca con chi ha vinto la sfida tra la nona e la decima. Poi ti devi fare tutti i play-off in trasferta. Ora, al momento, quasi tutti i palazzetti c'è una minima percentuale di tifosi. In alcune arene ancora non c'è il pubblico. Ma si presume che ci sarà pubblico in tutte le arene e in alcune, dipende da stato a stato, ci sarà anche parecchio pubblico. O perlomeno, pubblico significativo. Quindi, è chiaro che la priorità per i Lakers resta comunque recuperare al meglio i due migliori giocatori perché tutto parte da quello altrimenti il castello di carte cade comunque. Però è ovvio che scivolare troppo diventerebbe un grosso problema. A presto e comprato l'attac. Alla prossima!